L'altro giorno mi è capitato di mostrare sul mio iPad alcuni degli ebook multimediali che vado producendo da circa un anno, ne sono presenti su iTunes già ben 12 titoli. Ebbene il mio interlocutore che non era e non è una persona marginale li ha guardati molto sorpreso dicendo ma allora esistono, cioè esistono questi prodotti di cui si legge, esistono, già esistono, esistono amici miei. E' arrivato a tutto, ma come fare a farlo conoscere? Dovete fare delle campagne pubblicitarie. Eh già, fare delle campagne pubblicitarie costa, forse costerebbe molto di meno se partisse una sorta di passaparola. Passaparola. Provate ad andare a dare un'occhiata a questi ebook multimediali di Simonelli Editore su iTunes. Potete scaricare anche un breve assaggio, giusto, per avere una prima idea, se avete naturalmente un iPad. E dopodiché, attraverso Facebook, attraverso le mail, passaparola. Passaparola ai vostri amici e conoscenti. Sono delle buone cose, sapete. Grazie. Grazie.